Al Filippo di Tela si affrontano due squadre che hanno brillato e molto nella prima parte della stagione, meno da diverse settimane. Otto Under in campo nel Castelnuovo, nel vasto Girardi dal primo minuto, Zafesta tra i pali e Fioretti in attacco. I Neroverdi indirizzano la gara subito dalle loro parti, Cellucci scatta sul filo del fuorigioco e inchioda il portiere greco all'angolo più lontano. Non sono trascorsi neanche 120 secondi. Guida, Fioretti guida in area di rigore, il primo strappo dei molisani in completo bianco. Olivieri si oppone con i piedi. Minuti iniziali giocati a un buon ritmo dai 22 in campo. Il vasto Girardi reclama la massima punizione al quarto d'ora. Sull'angolo di Mele si ritrova steso a terra Pralini da rivedere. I locali alzano i giri del motore, i terramani si coprono dietro la linea della palla e ripartono negli spazi sulle punte Emili e Cellucci. Pericolo in casa, vasto Girardi, azione manovrata degli ospiti, foglia da sinistra, taglia il campo per la corsa di San Severino. Palla spedita sulla rete di recinzione da ottima posizione. I padroni di casa trovano grosse difficoltà ad entrare in area avversaria. Al quarantatresimo Salatino dalla media distanza lascia partire un mancino velenoso. Olivieri non ci arriva. Arriva in soccorso invece il palo esterno. Dopo due minuti di recupero, l'arbitro Antonio Di Reda della sezione di Molfetta invita le squadre negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Mister Prosperi richiama gli esterni di centrocampo, inserisce Guglielmi e Maniscalchi ad inizio ripresa per Fraraccio e Gentile. Preme la squadra in completo bianco, guida trova al centro area Salatino. L'inzuccata di testa troppo centrale, finisce tra le braccia di Olivieri. Fagioli per Cellucci, il primo cambio ordinato da Guido Di Fabio al minuto 11 per i suoi ospiti. Guardinghi ma sempre con il 3-5-2. Al diciottesimo spazio a centro area per i molissani al capocannoniere del torneo, Mercai lascia il terreno di gioco Fioretti senza aver lasciato il segno. Emili ruba palla a mele, si invola nella metà campo avversaria e conclude verso la porta di Zafestas. Palla alta, non di molto. Il Castelnuovo inizia ad accusare la stanchezza della gara di 48 ore prima a Pineto. Stoccata di coia che sfila al pianco del legno poco dopo la mezz'ora. Per i locali, Olivieri c'è. Entra in area Fagioli e va sul fondo. Intervento da Tergo di Guglielmi al limite del fallo. Ben appostato il fischietto pugliese. Il gioco prosegue. Terrenzio in area di porta colpisce al volto. Mercai, rosso diretto per il centrale difensivo ospite. Ultimi minuti in inferiorità numerica per gli abruzzesi. Sempre gli ospiti arroccati a difesa del risultato. Con le unghie guida cestina malamente fuori con il destro dopo una serpentina ubriacante al minuto 43. Nel finale concitato dalla panchina ne fa le spese il tecnico terramano guido di Fabio per proteste. Ma non succederà più nulla fino al termine dei sei minuti di recupero. Il Castelnuovo espugna il Ditelle e guadagna tre punti. Per il vasto Girardi prosegue un girone di ritorno in netta flessione rispetto all'ottimo inizio di stagione. Denotando lo scarso feeling con la via della rete.